Perché è così importante per voi partecipare all'evento di oggi, un unicum peraltro nel panorama italiano? Questo diciamo che è il primo grande evento che è stato organizzato da Asso Ascensori in collaborazione con Messe Frankfurt in Italia ed è una vetrina estremamente importante sia per le aziende ascensoristiche sia per anche le aziende di componenti ed è un evento dove anche in questo caso la tecnologia la fa da padrone. Qual è il vostro obiettivo? Essere qui e portarsi a casa che cosa effettivamente? Anche utile per la vostra azienda intendo? Diciamo che siamo qui, siamo presenti sia per rispondere nuovamente a quella che è la domanda di tecnologia che attualmente è presente nel nostro mercato italiano e quindi per la prima volta in questa occasione siamo stati capaci di portare le HoloLens che sono degli occhiali tridimensionali che vengono utilizzati per la manutenzione dei servizi sugli ascensori e quindi è molto importante per noi aver avuto l'opportunità di poter dimostrare a un pubblico che è molto variegato, si parte dagli architetti, a strutturisti, anche amministratori di condominio poter far vedere che non si parla soltanto di tecnologia ma la tecnologia veramente esiste quindi questo è un messaggio che vorremmo portare alla nostra platea di clienti, di consumatori finali dando un'attestazione, una dimostrazione reale di quello che si può fare ancora oggi. Le chiediamo giusto un esempio, in che modo davvero le HoloLens possono essere utili? Le HoloLens sono utilissime perché riescono a poter dare un supporto anche in remoto in qualunque caso di necessità ad un tecnico durante le attività di manutenzione, quindi ovviamente un tecnico deve saper fare quello che sono le normali attività di manutenzione ma ci possono essere mille difficoltà durante un intervento e grazie a questo strumento si riescono sostanzialmente ad avere degli aiuti in remoto si riescono a leggere quali sono le procedure ordinarie di manutenzione piuttosto che le procedure di sicurezza e quindi riescono a supportare un tecnico ad effettuare in maniera più efficace e più efficiente l'attività di manutenzione. Grazie, buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a lei.